Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento consueto con il progetto Metropoli Strategiche del Lanci, che come abbiamo già avuto modo di chiarire nel corso degli appuntamenti precedenti, è un progetto Pong Governance che si occupa di città metropolitane e che come già avevo avuto modo di spiegare ha tre filoni di indagini principali, uno sulla pianificazione strategica, uno sulla gestione associata delle funzioni e uno sulla semplificazione amministrativa. Nell'ambito di quest'ultima linea d'indagine oggi si terrà questo webinar che ha come tema la SCIA 1 e la SCIA 2, in particolare avremo con noi oggi Carlo Apponi che è il nostro esperto, l'esperto nazionale del progetto Metropoli Strategiche sulla semplificazione amministrativa e Filippo Nasetti che è un esperto del Dipartimento della Funzione Pubblica che si occupa anche di altri progetti Pong Governance, come avrà modo di dirvi. Io ho solo come obiettivo quello di darvi il prossimo appuntamento nell'abito del progetto Metropoli Strategiche che si terrà a Napoli il prossimo 18 gennaio che avrà come obiettivo quello di parlare del piano strategico della città metropolitana di Napoli, infatti l'evento si terrà nella sede della città metropolitana di Napoli e avrà come tema la città metropolitana di Napoli alla prova del piano strategico. Per quanto riguarda i nostri contatti Twitter e di posta elettronica, li trovate sull'ultima slide e cedo la parola a Carlo Apponi, grazie e buon lavoro. Grazie Rosalba, buongiorno a tutti e buon lavoro. Io a valle dell'intervento che farà Filippo, vi parlerò del litter procedimentale della SCIA, a valle anche, scusate il giro di parole, di due grossi progetti che stiamo sviluppando con la funzione pubblica, quello che vi ha detto Rosalba poco fa, quello di metropoli strategiche e quello di riformativa. Si è visto che con questi progetti ci sono varie interpretazioni nell'applicazione della SCIA, qual è il procedimento giusto, come bisogna applicarla, vanno fatte alcune cose, non hanno fatto altre cose, quando la SCIA la gestisce il suo e così via. Questo lo vedremo a valle dell'intervento che fa Filippo. Ora passo la parola a Filippo. Buongiorno a tutti, sono Filippo Nasetti, insieme a Carlo siamo consulenti del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e oggi, come vi è stato appena detto, faremo un quadro generale di quelli che sono stati i problemi da affrontare con i ricrediti legislativi 126 del 2016 e il 222 del 2016, quindi con i ricrediti SCIA1 SCIA2. Faremo un breve accenno sulla modulistica unificata e standardizzata oggetto degli accordi in conferenza unificata del 4 maggio, del 6 luglio del 2017 e del 22 febbraio dello scorso anno, quindi del 2018. Infine faremo una sintesi delle principali novità introdotte, vi parleremo brevemente, faremo degli esempi sui moduli unificati e standardizzati per l'edilizia e daremo alcuni dati sulla diffusione dei moduli unici. I problemi da affrontare sono stati ovviamente innumerevoli di base, facendo una sintesi dei principali, c'era sicuramente da affrontare il fatto che ci fossero adempimenti e procedure differenziate da comune a comune, una modulistica altrettanto differenziata, anche comuni confinanti e antistanti, una frammentazione di soggetti pubblici a cui rivolgersi e un numero rilevante di atti e presupposti da presentare a fronte delle istanze ovviamente di cui si aveva bisogno. Per sintetizzare e per dare una connotazione generale a questi e a tanti altri problemi, possiamo dire che gli oneri in capo al cittadino, all'impresa, agli utenti tutti erano decisamente enormi rilevanti con tutto ciò che ne consegue. Gli strumenti normativi, abbiamo detto che sono essenzialmente due, sono stati essenzialmente due e entrambi hanno dato piena attuazione all'articolo 5 della legge 124 del 2015 e abbiamo detto il legge del CA1, ovvero il 126 del 30 giugno 2016, che ha dato attuazione alla legge 124 in materia di SCIA e il decreto SCIA 2 del novembre 2016, quindi il 222, che ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione espressa, di segnalazione certificata di inizio di attività, di silenzio di assenso, di comunicazione e ha definito i regimi amministrativi applicabili alle singole attività e procedimenti. Andiamo a analizzare le caratteristiche principali e le novità introdotte dal decreto SCIA 1, quindi dal 126 del 2016. Innanzitutto il 126 del 2016 reca la disciplina applicabile generale ai procedimenti relativi alle attività private, non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a SCIA, even incluse le modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, uniformando tale modalità di presentazione e i contenuti standard delle stesse, cioè delle istanze, delle comunicazioni e delle segnalazioni e, novità molto importante, introducendo, di cui parleremo successivamente con maggior dovizia di particolari due articoli fondamentali alla legge 241 del 90, ovvero l'articolo 18 bis e il 19 bis, ovvero la concentrazione dei regimi. Altresì il decreto SCIA 1 ha previsto l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati all'atto di presentazione dell'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione tenuta a rispondere, ovviamente è previsto, oppure entro i quali il silenzio dell'amministrazione ovviamente equivale a accoglimento dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione. Allora, vediamo cosa comportato e cosa è la reale portata innovatrice della modulistica unificata e standardizzata. La predisposizione di moduli unificati e standardizzati ha avuto il fine di definire per tipologia di procedimento i contenuti tipici per ciascuna delle attività, organizzare i dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni e evidenziare in maniera perentoria quella che è e solo quella che è la documentazione da allegare. Ricordo che il fine di questi decreti è stato indubbiamente la semplificazione, la certezza di tempi, modi e delle istanze da presentare e soprattutto l'impossibilità da parte dell'amministrazione pubblica di richiedere ulteriori, di cui parleremo poi in che modo tale obbligo è diventato perentorio, ulteriori informazioni rispetto a quelli pubblicati sul sito istituzionale di ogni comune. Vige infatti l'obbligo di pubblicazione di tali moduli unificati e standardizzati sui siti istituzionali di tutti i comuni. Le modalità di adozione dei moduli ovviamente si differenzia e si è differenziata da amministrazione coinvolta ad amministrazione, ovvero le amministrazioni statali con un decreto del ministro competente di concerto con il ministro della pubblica amministrazione, sentite la conferenza unificata. Per le amministrazioni regionali e locali, nello spirito, nel rispetto del principio di l'area collaborazione, attraverso intese in conferenza unificata. Garanzie per il cittadino, garanzie per l'utente e garanzie per le imprese sono e sono state indubbiamente quella dell'impossibilità dell'amministrazione a chiedere ulteriori informazioni, a chiedere informazioni diverse rispetto a quelle oggetto del modulo pubblicato sul sito e tale garanzia è ribadita indubbiamente attraverso sicuramente i poteri sostitutivi nei confronti di ritardi e inadempienze. Ricordo infatti che se l'amministrazione inerte o in ritardo è quella locale, la regione, ovviamente nella quale insiste l'amministrazione, deve assegnare un termine congruo per provvedere e laddove tale inerzia dovesse perdurare si sostituisce all'amministrazione ovviamente deficitaria, quindi inerte o in ritardo. Lo stesso principio in applicazione all'articolo 8 della legge 131 del 2003, qualora l'amministrazione inerte o in ritardo fosse quella regionale, attraverso appunto come previsto dalla norma, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente in materia, ovviamente ad assegnare un termine, un congruo arco temporale per uniformarsi a quanto previsto dalla norma e nel caso contrario ovviamente anche per l'amministrazione regionale ci sarà appunto il potere sostitutivo da parte dello Stato, da parte del Governo. Non era sufficiente? Non è sufficiente, in capo al responsabile che ovviamente è responsabile della mancata pubblicazione dei moduli unificati standardizzati, vi sono anche delle sanzioni, sanzioni che prevedono la sospensione del servizio con relativa privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 6 mesi, quindi abbiamo detto certezza della pubblicazione di tali moduli sui siti istituzionali di tutti i comuni d'Italia. Questo perché? Perché il Decreto legislativo 126 del 2016 vieta in maniera altrettanto perentoria la richiesta di informazioni e documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli pubblicati sui siti, ovvero rispetto a quelli della modulistica standardizzata e unificata. L'amministrazione infatti può chiedere all'interessato ulteriori informazioni solo e unicamente solo qualora il contenuto dell'atto presentato non dovesse corrispondere a quanto richiesto dal modulo pubblicato sul residuo istituzionale. Tale garanzia per l'utente, quindi sia cittadino che impresa, ovviamente è oltremodo ribadita dal fatto che qualora il responsabile dovesse chiedere ulteriori informazioni, in capo a quest'ultimo vi sono sanzioni che prevedono la sospensione del servizio e la privazione dalla relativa retribuzione. Andiamo poi a vedere quella altra novità estremamente importante, introdotta, è indubbiamente quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 26. L'articolo 3 del decreto legislativo introduce due articoli fondamentali alla legge 241 del 1990, ovvero il 18 bis e il 19 bis. Il 18 bis prevede che all'atto della presentazione dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione è rilasciata immediatamente una ricevuta che ne attesti appunto all'avvenuta presentazione. Tale ricevuta indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale appunto ad accoglimento. La data di protocollazione ovviamente non può essere diversa da quella dell'effettiva presentazione. Naturalmente qualora l'istanza, la segnalazione fosse presentata non all'ufficio preposto di cui parleremo fra pochissimo, i termini decorrono dall'avvenuta ricezione da parte dell'ufficio preposto, quindi sarà l'ufficio ovviamente a cui è stata rappresentata che la trasmetterà all'ufficio preposto, da quel momento decorreranno i termini necessari. Non è solo questo, la concentrazione dei regimi prevista, quindi l'altra novità ovviamente molto molto importante è quella relativa all'articolo 19 bis introdotto nella legge 241 del 1990, ovvero se per lo svolgimento di un'attività soggetta a scia sono necessarie altre scie, comunicazione, attestazione, asseverazione o notifiche, l'interessato presenta all'amministrazione e allo sportello unico indicato sul sito istituzionale di tutti i comuni, come previsto dall'articolo 19 bis comma 1 introdotto da questo decreto legislativo alla 241 del 1990, presenta un'unica scia allo sportello unico. L'amministrazione ovviamente la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate, quindi interessate dalle singole segnalazioni e comunicazioni, al fine di consentire ad ogni amministrazione per quanto di competenza il controllo sulla sussistenza dei requisiti. Ricordo che se le amministrazioni competenti dovessero accertare la carenza, possono adottare una richiesta motivata di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla norma diavigente, con indicazioni di quelle che sono le misure necessarie per conformarsi e l'arco temporale necessario non inferiore a 30 giorni per adottarle. Qualora ovviamente non ci si conformasse alla norma diavigente, verrà di conseguenza, ci sarà un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione degli effetti dannosi. Con proposta di atto motivato, l'amministrazione può anche sospendere l'attività intrapresa nei casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per l'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Altra novità, sempre nell'ambito dell'articolo 19b, si introdotto dal decreto giudicativo 126 del 2016, sono i casi in cui se per l'attività soggetta a SCIA, tale SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o di pareri di altri uffici o amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato anche in questo caso presenterà allo sportello unico, quindi che sarà ovviamente come previsto dall'articolo 19b, l'unico ufficio preposto a ciò, la relativa istanza. Lo sportello unico rilascerà una ricevuta ai sensi della 18b della 249 del 90 e ovviamente decorreranno poi i termini previsti dalla norma per la relativa conferenza di servizi. Naturalmente qualora fosse in presenza di richieste di atti e presupposti, in attesa di rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA, l'efficacia della SCIA è ovviamente sospesa. Scaduti i termini previsti, come previsto dalla legge, sarà lo sportello unico e solo quest'ultimo a comunicare all'interessato il rilascio degli atti di assenso. Passo adesso la parola all'ing. Rapponi che completerà quanto vi ho poc'anzi detto aggiungendo e dando ulteriori derosidiazioni in merito al decreto di cui vi ho appena parlato. Di nuovo buongiorno e buon lavoro. Come vi dicevo prima stiamo curando due grossi progetti con funzione pubblica e riformativa che non sono finiti, stiamo facendo un primo monitoraggio, adesso partirà la seconda fase di riformativa in cui vi sono dei comuni d'Italia e stiamo sperimentando come hanno applicato la normativa e metropoli strategiche e stiamo vedendo un po' anche loro come hanno applicato la normativa. Una prima cosa che posso dirvi è che sia le regioni che le province che i comuni, nell'applicazione ad esempio, fermiamoci solo alla SCIA per non dire conferenze di servizi e altre cose, nell'applicazione della SCIA si sono comportate nella maniera più varia. Adesso entriamo un attimo nel procedimento di SCIA, io vorrei entrare nel procedimento di SCIA dello sportello unico per attività produttive perché ha due cose in più o qualcosa in più rispetto al procedimento di SCIA che non passa attraverso lo sportello unico. Scorriamo rapidamente questo procedimento, spero che voi lo vediate bene, comunque le slide saranno disponibili, non so se oggi o domani e quindi ve le potete scaricare queste cose qui. Ha parlato Filippo della ricevuta, la ricevuta va vista con l'articolo 18 bis della legge 241 del 90. Se voi andate a vedere, se avete un attimo scorso tutta la legge 241 non si parla mai di una verifica formale. La verifica formale è nella normativa che abbiamo che gestisce lo sportello unico, la troviamo nell'articolo 5 del DPR 160 del 2010 e la troviamo nell'articolo 4 dell'allegato al DPR 160 del 2010, poi la troviamo anche nell'AUA, il DPR 59 del 2010, però nella 241 non c'è la verifica formale della documentazione della scia e gli allegati che ci vengono presentati e lo stesso di altre istanze o altre, diciamo la scia non è un'istanza, è di istanze o altri titoli, qual è la comunicazione e così via. Vediamo un attimo le svariate ipotesi e come si risolvono queste cose. Che cosa succede? abbiamo una prima fase del procedimento che dura da quanto viene presentata la domanda fino ai 60 giorni nel caso di scia normale, 30 giorni nel caso di scia edilizia. In questi 60-30 giorni che cosa deve accadere? Vediamolo con lo sportello unico, con le dovute cose e poi togliamo quello che non è di competenza dello sportello unico. Il richiedente che cosa fa? Predispone la scia, predispone tutti gli allegati, qui parliamo di richiedente ma in genere il richiedente si avvale di un tecnico, si avvale di qualunque altra persona, gli farà una procura e tutto quanto, questa è necessità conoscenza. La prima domanda che ci fa fare l'articolo 5 del DPR 160 del 2010 è quello di dire che la scia è contestuale alla comunicazione unica, perché se la scia, nel caso di sì che la scia è contestuale alla comunicazione unica, noi siamo obbligati, per come è scritto lì, a presentare a registro delle imprese la scia e la comunicazione unica, il quale registro delle imprese poi mi trasmette tutto ciò che è di competenza dello sportello unico, la scia quindi che è di competenza dello sportello unico allo sportello unico. Qui abbiamo una cosa che ci dice l'articolo 5 del DPR 160, nel caso di scia, che non ci dice la legge 241. Il SUAP deve fare la verifica formale. Ora nel caso di verifica formale positiva, mi dice l'articolo 5, io posso iniziare l'attività, quindi nel caso di verifica positiva. Allora a questo punto che cosa accade? Quando la verifica non è positiva, mentre la 241, l'articolo 19 non mi dice niente se devo formalmente verificare questa documentazione. Che cosa accade? Nel caso in cui la verifica formale sia negativa, io che cosa faccio? Rigetto l'istanza? L'istanza non è un'istanza, abbiamo detto rigetto la scia? E qui come si sono comportati le varie amministrazioni? Allora alcune amministrazioni quando c'è qualcosa che è formalmente qualcosa di piccolo, che riescono, una virgola dico così tanto per dire, una cosa banale, a quel punto chiamano, perché non potendo fermare il procedimento, perché ci sono altri termini per fermare il procedimento, chiamano l'imprenditore o che per lui e fanno aggiustare queste cose. Alcuni altri invece fissano, alcune altre amministrazioni fissano dei tempi, che ne so, brevissimi, tre giorni, due giorni per mettere a posto formalmente la pratica. La domanda, cioè la scia più gli allegati. Qual è il problema? Diciamo non c'è scritto da nessuna parte, io potrei, alcune altre amministrazioni che cosa fanno? Se manca qualche cosa danno il diniego, quindi ognuno si comporta in maniera diversa e questo l'abbiamo verificato sul campo. Ci aspettiamo, è stato detto anche a funzione pubblica che prima o poi, meglio prima che dopo, uscirà un'interpretazione di questo iter procedimentale di abbinare i due procedimenti e di spiegarlo bene. Però è da spezzare una lancia in favore di funzione pubblica e di altre cose, perché ricordiamoci una cosa che la scia non esisteva, il DPR 360 del 2010 era partito con una denuncia di inizio di attività, se vi ricordate, poi è passato in scia e così via. Poi nell'aggiustare la normativa non si è fatto un aggiustamento totale, per cui è rimasto qualche comma che dice una cosa diversa dagli altri, per cui va interpretato tutta quanta la cosa, però è bene che lo interpreti in funzione pubblica e quindi siamo anche in una fase a valle di questi interventi, di questi progetti, di questa sperimentazione che stiamo facendo, di tirar fuori sia per la scia, sia per gli altri atti e di nuovo ancora per la conferenza di servizi quelle informazioni che servono all'applicazione corretta di questi istituti. E quindi il primo punto è questo della richiesta di regolarizzazione, allora se noi abbiamo formalmente qualcosa che non va, rigettiamo l'istanza, ma se rigettiamo l'istanza, molti sindaci ci hanno detto che nel rigettare l'istanza faccio spendere più soldi al cittadino, perché questi hanno presentato un'asseverazione, queste persone hanno presentato determinate cose, per cui praticamente ora la rigettano, devono ripresentarla, devono fare tutto quanto di nuovo eccetera. Fin quanto possa aggiustarlo, l'aggiusto. Questo è il primo passo, è il primo ostacolo che abbiamo visto in quasi tutte le amministrazioni. L'altro ostacolo, nel caso poi di verifica positiva, a quel punto che cosa fa lo sportello unico? Rilascia la ricevuta e invia la documentazione alle varie amministrazioni competenti e ai vari uffici. Ricordiamoci una cosa, noi c'è una funzione pubblica sempre delle comunicazioni da parte degli enti terzi, in particolar modo dei vigi del fuoco, delle ASL eccetera, che vogliono esclusivamente la loro documentazione. Noi gli mandiamo la documentazione anche di altri enti, un po' perché loro sono costretti a vederla tutta e a fare una cernida delle documentazioni che a loro interessa e un po' perché fino a quale punto bisogna intervenire o non intervenire non si riesce a sapere. Forse potrebbe essere interessante come fanno alcune amministrazioni è quello che io mando ad esempio ai vigi del fuoco la documentazione di sua competenza, di loro competenza e nella scia dove c'è scritto l'elenco degli allegati io gli mando l'elenco totale degli allegati. È importante perché se poi loro hanno bisogno di un qualcosa che è già stato presentato e che è andato in un altro ente eccetera e che è disponibile tra le amministrazioni, nello sportello unico e altre cose, loro possono attingere a quello e non richiedere integrazione di documentazione all'imprenditore o al cittadino in dipendenza della scia che la presenta. L'altro problema è questo qua e l'altra difficoltà di applicazione. La legge, l'articolo 19, ci dice che entro 60 giorni e quindi da quando hanno presentato la scia fin quando chiude il primo tempo, poi vediamo la prima fase, poi vediamo la seconda fase, che cosa accade? Accade che io posso chiedere di conformare l'attività a certe condizioni naturalmente, posso chiedere di confermare. Allora io mi fermo, altra interpretazione in maniera diversa da vari enti, vari comuni, varie regioni e così via. Che cosa faccio? Chiedo, ammettiamo che formalmente sia corretta l'istanza, sia la scia, formalmente corretta. Io inizio la mia attività e poi la mando alle amministrazioni terze, la mando a Vigile del Fuoco, la mando alla ASL, la mando all'ARPA, occhi per loro. A questo punto, ad esempio, la ASL vede che bisogna integrare della documentazione. Allora se io devo integrare della documentazione, che cosa faccio? Rigetto l'istanza, anche qui si pongono questi problemi dai vari comuni, rigetto l'istanza, chiedo l'integrazione di documentazione, me ne vado alla conformazione entro i 60 giorni e lì chiedo l'integrazione della scia. Queste sono tre cose diverse per cui le amministrazioni le applicano, alcuni applicano una, alcuni applicano un'altra, alcuni applicano un'altra ancora. Giustamente, se noi andiamo a leggere alla lettera l'articolo 19, l'articolo 19 mi dice che io non devo chiedere l'integrazione di documentazione in questo frangente, tutt'al più nella conformazione, e qui la maggior parte di questi degli enti, nella conformazione fanno conformare e chiedono l'integrazione di documentazione e conformano a patto che ci sia questa integrazione, più devono mettere a posto determinate cose. Vediamo poi che l'integrazione di documentazione si chiede sia per carenza di determinate cose, per alcune cose che possono essere messe a posto, sia perché si vengono a ledere degli interessi sensibili, per cui degli interessi per tutta la popolazione. Quindi anche qui ci troviamo a come applicare questa benedetta scia, anche qui bisogna uscire, la funzione pubblica devono uscire fuori con delle linee guida, una circolare o qualcosa che ci spieghi bene in realtà come deve essere applicato questo procedimento. Diciamo che il procedimento potrebbe scorrere e potrebbe andare bene tenendo anche conto dello sportello unico per attività produttive, se noi al 59esimo giorno, non diciamo il 59esimo giorno, entro il 60esimo giorno, ma se vedete l'articolo ad esempio 19 bis nel caso del comma 2, nel caso quanto parla di scia unica, ci dice che gli enti tersi dovrebbero mandare questo benedetto atto, non atto motivato, ma questo benedetto proposta motivata almeno 5 giorni prima, potremmo e poi bisogna fermare il procedimento in un tempo T maggiore o uguale a 30 giorni, potremmo all'interno di questi 60 giorni fare questa proposta di conformazione, nel caso fosse necessaria, non è detto che dobbiamo farla necessariamente, e lasciare un certo tempo anche alle amministrazioni terze, se io dovessi chiedere integrazioni di documentazione, anche alle amministrazioni terze, perché io devo sospendere il procedimento quando faccio la conformazione, anche alle amministrazioni terze di vedere eventualmente la documentazione che ci hanno allegato, quindi questa è una delle cose che fanno la maggioranza delle amministrazioni, perché non fermano, alcune invece ad esempio, tanto per fare un esempio, la regione Sardegna ad esempio, ferma il procedimento per l'integrazione di documentazione e poi successivamente una volta che la documentazione viene integrata lo ferma per 30 giorni in base all'articolo 7, cioè all'articolo 2,7 della legge 241 del 90 e poi dopo che si è integrata tutto quanto, nel caso di conformazione, poi passa alla conformazione e quindi sarebbe il caso di vedere bene come fare le cose. Quando le amministrazioni, su proposta anche dell'amministrazione, c'è da fare questa benedetta conformazione, il suo app trasmette un atto motivato al richiedente, il quale richiedente deve fare la conformazione, il richiedente mi deve scrivere a me, deve darmi un segnale solo se ha messo a posto la cosa, perché se ha messo a posto la cosa mi dice che l'ha messo a posto e quindi lui può andare avanti. Nel caso che non abbia messo a posto, io non ho nessun riscontro da parte del richiedente, a quel punto io si stoppa il procedimento ma in maniera negativa. Poi nel caso vi è quindi un provvedimento da parte del SUAP che ci dà questo diniego. Un'altra delle cose importantissime che io vi ricordo e l'ho messo qui nella destra, è il fascicolo informatico. Ricordiamoci due cose importanti, perché uno pensa che il fascicolo informatico sia esclusivamente un fascicolo di impresa, allora il fascicolo di impresa noi lo andiamo a vedere, ad esempio nell'articolo 43 bis del DPR 450 del 2000, il CAD prevede un fascicolo informatico per ogni procedimento, quindi non solo per la scia come lo prevede anche il 160, l'articolo 4,9 lettera D del 160 ci dice che noi dobbiamo inviare tutto a REA per un fascicolo informatico, per fare il fascicolo informatico. Quindi il fascicolo informatico nel caso dello sportello unico perché si tratta di impresa, ma viene previsto nel CAD, nel codice dell'amministrazione digitale, il fascicolo informatico anche per ogni procedimento. Altra cosa che voglio dirvi in base a questo iter procedimentale, prima di passare al secondo iter che dobbiamo fare, è quello di dire che noi, abbiamo parlato di ricevuta, la ricevuta dovrebbe contenere o può contenere, questo dipende dal responsabile del procedimento, da responsabile dello sportello unico, dall'amministrazione, può contenere le informazioni di cui è l'articolo 7 o l'articolo 8 della legge 241 del 90, quindi in questo caso contempla tutto, molte amministrazioni queste informazioni le mettono direttamente sul proprio sito. Un'altra cosa che voglio dirvi, abbastanza interessante, è che sul vostro sito, in base all'articolo 35 del decreto sulla trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013, deve contenere un po' di cose, deve contenere ad esempio una breve descrizione del iter procedimentale, deve contenere, che posso dire, il responsabile del potere sostitutivo, molte amministrazioni non mettono questa figura abbastanza importante, il responsabile del potere sostitutivo, per cui un cittadino o un'impresa può rivolgersi a questo responsabile del potere sostitutivo quando dopo che sono passati i tempi non si hanno, diciamo, non ha l'atto o il dinieco, diciamo l'assenso o il dinieco. In questo caso è previsto questa figura dall'articolo 2,9 bis, 9 terre e seguenti della legge 241 del 1990. E così la modulistica, tutte queste cose qua. Il contenere il sito, la modulistica è importantissima perché la richiama anche il decreto legislativo 126 del 2016, che ci dice espressamente il comma 2 dell'articolo 1, che noi bisogna mettere questa benedetta modulistica sul proprio sito perché se non la mettiamo in realtà l'imprenditore o il cittadino può farci una domanda su un semplice foglio di carta per cui noi non possiamo poi fermare il procedimento. E quindi c'è questa cosa qui che il nostro sito deve dare quelle informazioni che non possiamo, intanto che siano stabili, che non possiamo ogni volta scrivere al cittadino o all'imprenditore eccetera e questa descrizione del leader procedimentale e tante altre cose che vi leggete nell'articolo 35. Questo diciamo poi il fascicolo informatico perché viene fatto? Viene fatto poi ed è importante per ogni procedimento come lo prevede il CAD per l'impresa e come lo prevede il 160 perché poi noi non possiamo chiedere, ma anche prima non possiamo chiedere al cittadino o all'imprenditore la documentazione che noi già abbiamo. Adesso avendola messa in un fascicolo informatico accidenti, cioè ce l'abbiamo e quindi non la chiederemo più. Detto questo passiamo alla seconda fase. Questa è una fase, la prima fase che va da zero, da quando io presento la domanda, a quando io chiudo l'azione inibitoria, chiamiamola vera e propria, io l'inibizione la posso fare anche successivamente poi vedremo, ma l'azione inibitoria vera e propria che sono i 60 giorni o i 30 giorni nel caso di scia edilizia. Nella seconda fase noi abbiamo, la possiamo chiamare una fase di autotutela, abbiamo i poteri di autotutela, cioè per quello che vi dicevo prima, il potere inibitorio della scia deve intervenire entro il termine di 60 giorni o 30 giorni in base all'articolo 19,3,4,6 bis, 6 bis nel caso di riguardi l'edilizia della legge 241 del 90. Un'altra avvertenza che voglio darvi è che l'atto inibitorio della scia, e qui sono uscite varie sentenze, ha natura di atto recettizio che in base all'articolo 21 bis della legge 241 acquista efficacia quanto viene fatta la comunicazione al destinatario. Quindi ricordiamoci, se io la comunicazione gliela faccio dopo i 60 giorni, se la comunicazione la faccio dopo i 30 giorni, scaduti i termini non ha più efficacia, se vi leggete le varie sentenze alla fine ci dicono questo. Poi decorso il termine previsto dall'articolo 19 della legge 241 del 90, poi posso applicare il potere di autotutela, quale ad esempio nel nostro caso l'annullamento di ufficio. Vediamolo un attimo. Quali sono le forme di autotutela? Allora io qui vi ho riportato che le forme di autotutela, le principali, sono quelle che praticamente nella prima versione, prima dell'ultima modifica, era previsto anche l'articolo 21 quinquies che era la revoca, io revocavo l'atto, però io dovevo dare un atto al cittadino o all'imprenditore, quindi questi avevano un atto e che poi potevo revocarlo. Poi è stato tolto l'articolo 21 quinquies della legge numero 241 del 90 nel caso di scia e si può solo fare l'annullamento d'ufficio in base all'articolo 21 nonies della legge numero 241 del 90. Poi si aggiunge anche un'altra forma di autotutela, una forma che è la sospensione dell'efficacia, ma è una forma un po' strana nel senso che avviene per casi gravi e che io poi fermo, stoppo il procedimento e poi ricomincia dopo un certo tempo. Che cos'è l'autotutela esecutiva? La revoca, quella che prima si poteva fare, perché la revoca è il potere di eseguire unilateralmente l'amministrazione, la pubblica l'amministrazione su provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari, quindi c'è un provvedimento effettivo e quindi deve essere espressamente prevista e regolata dalla legge e quindi opera su provvedimenti legittimi, nel senso che io rilascio un provvedimento a un cittadino o all'imprenditore, in questo caso è descritto tutto ciò che lui deve fare nel procedimento, ad esempio vediamo il permesso di costruire, nel permesso di costruire c'è scritto tutto, devo rispettare ad esempio il decreto ministeriale 37 del 2008, gli impianti all'interno degli edifici, deve rispettare le norme dei piani regolatori e così via, se non rispetta determinate cose e se è previsto per legge, quindi è importante che questa autotutela esecutiva sia prevista per legge, io posso revocare questo atto. Poi c'è l'autotutela decisoria che è l'annullamento d'ufficio, qui in questo caso io non ho un vero e proprio provvedimento, la scia non gli rilascio nessuna cosa, tutt'al più gli rilascio la ricevuta, non rilasciandone nessuna cosa, quanto posso bloccare la scia? Quando è aborigine, cioè all'origine è illegittima, perché se è legittima questo va avanti e va tutto a posto. Poi c'è un'altra cosa sull'annullamento d'ufficio, è che proprio per non ledere i diritti dei terzi, l'amministrazione può intervenire, anzi deve intervenire all'interno dei 18 mesi, quindi non può superare i 18 mesi, non può superare. Ancora, quanto posso fare io applicare l'autotutela? L'autotutela io l'applico, intanto se ci sono, sussistono ragioni di interesse pubblico, poi sono stati contemperati gli interessi coinvolti, quindi tutti gli interessi coinvolti per la realizzazione di questa scia, si è tenuto conto della valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e non siano trascorsi 18 mesi dall'aduzione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, cioè 18 mesi da quando è iniziata l'attività, da quando io ho iniziato. E oltre i 18 mesi che cosa faccio? Quindi allora abbiamo visto da 0 a 60-30 giorni io intervengo con atti inibitori, posso far fare la conformazione e quindi è stato tutto a posto una volta che hanno conformato. Da 60 a 18 mesi, in realtà posso anche intervenire se ho alcune cose anche precedentemente, ho il potere di autotutela, poi ho l'autotutela oltre 18 mesi solo se si è formata la scia ha preso piede e questo ha iniziato a lavorare il cittadino, l'imprenditore sulla base di dichiarazioni mendaci. Ricordiamoci una cosa, quando la dichiarazione è mendace io posso sempre sospendere, posso sempre fare mettere in pristino la cosa e denunciare alla Procura della Repubblica. Io per adesso mi fermerei e passerei la parola a Filippo così ci illustra la seconda parte del 222 del 2016. dell'articolo 5 della legge 124 del 2015, diciamo che il decreto legislativo 222 del 2016 completa tale attuazione, attraverso una precisa individuazione dei procedimenti. Infatti questo decreto effettua una ricognizione delle attività private in materia di edilizia, di ambiente e commercio, di attività assimilabili ovviamente nella tabella A che ricordo forma parte integrante del decreto stesso. Indica per ciascun procedimento e attività nella tabella A il regime amministrativo applicabile e descrive poi la concentrazione dei regimi di cui abbiamo già parlato nel 126 e nell'introdotto articolo 19 bis alla legge 241 del 1990. Infine introduce disposizioni specifiche intervenendo in settori liberalizzati. Andiamo a vedere la tabella A del decreto legislativo 202 del 2016, ricordo che ne è parte integrante, che forma parte integrante del decreto stesso, contiene 246 attività e procedimenti nei settori del commercio assimilabili nella prima sezione, dell'edilizia nella seconda sezione e dell'ambiente nella terza sezione. È suddivisa in 4 colonne, nella prima colonna sono elencate le attività, quindi le 246 attività, nella seconda colonna i regimi amministrativi corrispondenti, quindi scia, scia unica, comunicazione, autorizzazione, nella terza colonna la concentrazione dei regimi amministrativi amministrativi che indica la modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni, delle comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere la relativa attività. Infine i riferimenti normativi, quindi è una tabella decisamente completa in cui sono elencate tutta una serie di attività, ricordo ovviamente non si può dire che siano tutte le attività, ma ovviamente tutto è implementabile, ma è un primo grande, rilevante, importante elenco di attività dove in maniera molto chiara viene per singola attività, ribadisco, elencato il regime amministrativo, la concentrazione del regime e tutti i riferimenti normativi connessi con la singola attività. Allora diamo una spiegazione breve ma rilevante alle singole attività e alle singole, quando nella tabella per esempio noi in rapporto a un'attività leggiamo comunicazione, quest'ultima produce effetti all'atto della presentazione dello sportello unico, quindi naturalmente qualora per l'avvio, lo svolgimento o una cessazione di un'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, per il principio della concentrazione dei regimi di cui abbiamo più volte parlato, l'interessato presenterà un'unica comunicazione. Nel caso in cui noi trovassimo scia, l'attività ricordo può essere avviata immediatamente, entro il termine di 60 giorni per l'attività produttiva e quindi il commercio e di 30 per l'edilizia, novità introdotta appunto con l'attuazione, con la piena attuazione dell'articolo 5 della legge 124 attraverso questi due decreti digitali di cui vi stiamo parlando, l'amministrazione effettuerà i controlli sulla sussistenza dei requisiti e sui presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Come ho detto nella prima parte, come in maniera più dettagliata ha specificato Carlo, qualora dovessero essere accertate carenze di tali requisiti, l'amministrazione ovviamente può chiedere di adeguarsi in un termine, in un arco temporale congo non inferiore a 30 giorni a quanto prescritto dalla norma e o nel caso contrario vietare la prosecuzione dell'attività o addirittura richiedere all'interessato di conformarsi alla normativa vigente. Quando nella tabella noi leggiamo scia unica, quindi di nuovo 19 bis introdotto dal 126 del 2016, quindi nel caso in cui siano necessarie altre scie, comunicazioni o notifiche, l'interessato come abbiamo detto presenta allo sportello unico e solo a quest'ultimo un'unica scia che la trasmette, lo sportello unico ovviamente, immediatamente a tutte le amministrazioni interessate per i relativi controlli di competenza relativa alle singole segnalazioni, asseverazioni e quant'altro. Quando noi leggiamo scia condizionata, 19 bis anche esso, quindi è una scia condizionata a che cosa? All'acquisizione di atti di assenso, l'interessato presenta anche in questo caso un'unica scia, ne vedremo poi un esempio e ve ne parlerò per quanto riguarda l'edilizia, quindi un'unica scia allo sportello unico, quindi una scia condizionata dalla richiesta di atti di assenso, nei termini prestabiliti dalla legge sarà convocata la conferenza dei servizi, ovviamente essendo in presenza di vincoli, quindi di atti di assenso, l'avvio dell'attività, in questo caso è subordinato dal rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo sportello unico come unico ufficio ovviamente che si frappone fra l'amministrazione e l'utente, quindi sia il cittadino sia l'impresa. Quando noi leggessimo invece l'autorizzazione, nell'edilizia quindi per esempio il permesso di costruire, è necessario quindi comunque di base un provvedimento espresso, quindi è lo sportello unico che deve comunicare ovviamente in maniera chiara e dalla quale comunicazione poi deriveranno per esempio per l'edilizia i tempi ovviamente di realizzazione dell'intervento, deve comunicare in maniera espressa in nulla osta alla richiesta presentata, salvo i casi previsti dall'articolo 20 della legge 241 del 90, ovvero quelli del silenzio assenso. Naturalmente anche come previsto da dati legislativi e dalle novità introdotte appunto da questi ultimi, anche quando nella tabella noi leggiamo autorizzazione più scia o più scia unico, più comunicazione, sono tutti quei casi dove a fronte di un'autorizzazione espressa l'interessato può allegare una scia, più scia, quindi una scia più ulteriori segnalazioni certificate o ulteriori comunicazioni, per l'attività ovviamente, per tutte quelle attività che lo prevedono. Allora abbiamo detto che i due decreti legislativi, dai due decreti legislativi di cui vi abbiamo parlato, sono poi derivate ovviamente tutte queste novità e la plastica evidenza di tale novità sono indubbiamente i moduli unici standardizzati, unificati su tutta l'Italia nazionale e come abbiamo detto pubblicati sui siti istituzionali di tutti i comuni d'Italia. Allora questi moduli unici ribadiscono, sono stati ovviamente un lavoro molto intenso, portato avanti dal governo, dalle regioni, dall'Anci, dai comuni e da tutti gli attori che hanno fatto parte, che hanno implementato, che hanno migliorato e che hanno contribuito poi alle intese del 4 maggio e del 6 luglio del 2017, pubblicate in gazetta ufficiale rispettivamente il 5 giugno e il 16 agosto e del 22 febbraio del 2018, pubblicate il 15 giugno dello stesso anno ovviamente. Allora questi non sono altro che i primi tre pacchetti abbiamo detto frutto di un lavoro condiviso tra regione, Ance, governo e tutti gli attori chiamati in caso, quindi un lavoro corale che secondo noi dal quale ne è derivata ovviamente una profonda semplificazione, riduzione di costi, di onere, di tempi per gli utenti, quindi per lato cittadino e lato impresa. Questi accordi riguardano la standardizzazione delle informazioni e sono pensati, ricordo, poi li vedremo, per essere utilizzati in modalità telematica e non in forma tradizionalmente cartacea. Faccio questa notazione perché? Perché i moduli ovviamente devono prevedere tutte le possibili opzioni o tutte le opzioni che siamo riusciti ovviamente a immaginare, a pensare e dove tutti hanno contribuito ovviamente ad aggiungere col proprio background, con la propria ovviamente formazione, ma il cittadino e l'impresa ovviamente se in modalità telematica vedranno solo le parti che li riguardano e i quadri riprodurativi di cui vi farò un esempio al termine dei moduli staranno e potranno essere sul supporto telematico riempiti e generati in maniera automatica. Naturalmente il formato cartaceo avrà l'onere di essere più voluminoso soprattutto per quanto riguarda la scia e ovviamente le autorizzazioni quali il permesso di costruire e di conseguenza ovviamente il cittadino dovrà riempire solo le parti ovviamente per le caratteristiche dell'intervento, per il sito dove si andrà a intervenire e per tutto un insieme di motivi e solo le parti ovviamente che lo riguarderanno. Allora le regioni e gli enti locali ovviamente nel disciplinare tali regimi di loro competenza possono prevedere i livelli ulteriori di semplificazione. Questo che cosa significa? Significa che i livelli garantiti dalla motoristica, dagli accordi e dalle norme ovvero i degredi legislativi di cui abbiamo parlato possono definirsi come livelli minimi di semplificazione a cui tutte le amministrazioni, quindi semplificazione e di garanzie ovviamente assicurate, ovviamente le amministrazioni locali, quindi regionali e locali possono anche prevedere i livelli ulteriori di semplificazione, non possono ovviamente scendere al di sotto di questo livello minimo garantito dai decredi. Le regioni per tutti i moduli, quindi nelle varie intese, nel futuro intese, debbono e possono garantire, devono adeguare la motoristica alle specificità regionali. Questo in che modo? In tutti i moduli, ovviamente in quelli di cui vi ho appena parlato, tale fase si è già svolta, le regioni hanno avuto dopo l'intesa il modulo unificare standardizzato, contrassegnato da alcune parti variabili, ovvero quindi contrassegnato da un esterisco, ovvero parti dove era prevista, dove è prevista, abbiamo detto che c'è nello spirito di leale collaborazione, nelle rispettive competenze, parti dove la competenza è strettamente regionale e quindi di conseguenza sono stati parti e potranno essere in futuro parti, per le future intese, modificabili dalla regione, specificando ovviamente la normativa regionale di riferimento. Quindi le regioni hanno avuto, avranno un termine per modificare tale normativa e tale parti solo, unicamente ribadisco le parti dove esiste normativa regionale di riferimento, al termine del quale l'obbligo ricade sull'amministrazione locale, quindi sul comune. Ricordo i poteri sostitutivi in capo ai comuni inadempienti da parte delle regioni, ricordo i poteri sostitutivi in capo al governo, quindi alla Presidenza del Consiglio Ministro, al Ministro competente, in capo alle inadempienze da parte dei comuni. Ricordo anche che l'obbligo di pubblicazione della modulistica sui siti istituzionali da parte di tutti i comuni, come altrettanto ovviamente l'obbligo dello sportello unico, del riferimento allo sportello unico di ogni comune, può essere assolto anche attraverso, in maniera abbastanza semplice, anche attraverso un rinvio, un rinvio al link, al link della piattaforma telematica di riferimento o al link della modulistica adottata dalla regione, quindi la conferenza unificata approva i moduli unificati e standardizzati, la regione in un arco temporale che viene fissato ovviamente in maniera chiara e tanto perentoria in cui l'asso temporale modifica solo nelle parti variabili la modulistica, quelle nelle parti ovviamente contrassegnate asterisco, il comune può una volta che la regione pubblicherà per i futuri intesi in conferenza il modulo unificato e standardizzato modificato sulla base normativa regionale ove presente ovviamente, può rinviare attraverso un link, può fare il rinvio sul proprio sito attraverso il link della modulistica pubblicata dalla regione ovviamente di riferimento, regione in cui insiste il comune. Ricordo ovviamente che sulla mancata pubblicazione sono previste anche delle sanzioni in capo al responsabile estremamente rilevanti, quale appunto la sospensione del servizio e della retribuzione da un minimo di 3 giorni a un massimo di 6 mesi, come previsto dal decreto oggettivo 126 di cui vi ho appena parlato. Ricordo anche che per quanto riguarda il decreto oggettivo 282 di cui vi sto parlando e la tabella le amministrazioni possono nell'ambito rispettive competenze ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella anche in ragione delle loro specificità territoriali a quelle corrispondenti, quindi pubblicandole sul proposito istituzionale. Ricordo anche che in capo all'amministrazione è prevista, come fa l'altro ribadito dal Consiglio di Stato, una preistruttoria da rendere in modalità totalmente gratuita relativa alle attività elencate nella tabella A, quindi al fine unicamente di agevolare l'inquadramento del regime giuridico dell'intervento ipotizzato come previsto dalla norma, fatto salvo ovviamente il pagamento dei diritti di segreteria previste dalla legge. Questo faccio un breve passaggio per elencare, suddivise in due macro aree, quindi quella relativa alle attività commerciali e assimilate e quella dell'edilizia, l'elenco dei moduli standardizzati oggetto dei singoli accordi in conferenza unificata, quindi l'elenco è molto vasto, abbiamo elencato i singoli moduli, noi andiamo ovviamente per un fatto di tempo ad elencare, a specificare, a parlare singolarmente di tutti i moduli, quindi passiamo brevemente dall'esercizio di vicinato, alle vendite dei spacci interni, al subingresso di attività e così via per le attività commerciali, alla scia, alla scia alternativa al permesso di costruire, la comunicazione di fine lavori, la scia per l'agibilità di cui faremo un breve passaggio e il modulo di soggetti coinvolti per l'edilizia che ricordo essere un modulo comune sia alla scila, alla scia e alla comunicazione di fine lavori. Stesso elenco più ridotto, ma estremamente rilevante, dei moduli approvati lo scorso 6 luglio 2017, quindi con la successiva intesa, quindi il tinto lavanderia, autoriparatori, autorimesse, il modulo del permesso di costruire adeguato sulla base dei principi dei due decreti legislativi 126 e 222, infine l'accordo in conferenza unificata dello scorso 22 febbraio riguardante il commercio all'ingrosso, quindi i moduli riguardanti il commercio all'ingrosso, il facchinaggio, le imprese di pulizie e le agenzie di affari di competenza del comune. Nel medesimo accordo, in conferenza unificata dello scorso 22, faccio presente che è stato approvato anche l'accordo per l'allegato tecnico agli schemi XML, quindi novità estremamente rilevante, che integreranno la modulistica approvata nei due accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017. Breve flash sulle novità quindi introdotte dagli accordi, dai decreti legislativi 126 e 222. Allora, abbiamo già detto, non possono essere richiesti dati a tempimenti derivanti da prassi amministrative, ma solo quelli espressamente previsti dalla legge, quindi possono essere richiesti solo a tempimenti previsti e pubblicati sulla modulistica, sulla modulistica del proprietario pubblicato sul sito istituzionale di ogni comune, null'altro, ovviamente il comune non può richiedere altri adempimenti se non nel caso di incongruenze fra quanto pubblicato e ovviamente quanto presentato. Altra novità, la modulistica commerciale è stata proprio per semplificare, per andare incontro al cittadino, all'utente, è stato semplificato il linguaggio, per fare un breve esempio, l'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, per semplicità e anche per immediatezza, è diventato come effettivamente è un bar o un ristorante, quindi ovviamente anche il lavoro di semplificazione è permeato anche nel linguaggio. Sono state eliminate gran parte tutte le espressioni quali ai sensi di, cioè i riferimenti normativi ci sono, si trovano in nota o tra parentesi, ma per semplificare la vita del cittadino, dell'impresa, per rendere conoscibile immediatamente all'impresa ciò che si chiede di sottoscrivere, sono state eliminate tutta una serie di voci che ovviamente rendevano più difficile la comprensione di quello che si andava poi a chiedere di sottoscrivere. Breve esempi di modulistica, abbiamo portato tre esempi molto molto veloci relativi all'edilizia, ne avremmo potuti portare molti altri, per semplicità ne abbiamo portati tre, di tre moduli che troverete sui siti istituzionali di tutti i comuni d'Italia. Il primo modo è una CILA, abbiamo parlato di un'edilizia, quindi una comunicazione da presentare, asseverata perché è asseverata da un tecnico. Ricordo che nello specifico che a seguito delle modifiche apportate al test 1 dell'edilizia, quindi al DPR 380 del 2001, per la CILA sono applicabili alla comunicazione tutti gli interventi che non ricadono nell'articolo 6, nell'articolo 10 e nell'articolo 22 del 380 del 2001, quindi del test 1 dell'edilizia. Cosa significa? Che tutti quegli interventi che non riguardano l'edilizia libera, l'articolo 6, la SCIA, l'articolo 10 e il permesso di costruire l'articolo 22, ovviamente sono interventi riconducibili nell'alvio della comunicazione di inizio lavori asseverata. Anche se una comunicazione, faccio presente, che è prevista una sanzione pari a 1000 Euro ridotta di un terzo se la comunicazione viene presentata in itinere rispetto ai lavori, nel caso ovviamente di mancata presentazione. Come abbiamo più volte ribadito, come previsto dai decreti legislativi di cui vi abbiamo parlato, anche in caso di CILA, qualora siano necessari atti di assenso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell'unico sportello previsto, ovvero quello dello sportello unico, in questo caso per l'edilizia, dell'atticolo di acquisizione ovviamente dei medesimi atti di assenso. Quindi anche in caso di CILA, per le peculiarità dell'intervento, per le peculiarità del luogo dove si andava a svolgere l'intervento, nonostante ovviamente il modulo della CILA, come potrete vedere, è un modulo molto molto snello, per interventi ovviamente di rango inferiore, quindi molto più semplice, non interventi ovviamente su parte strutturale e così via, è previsto un rinvio per quanto riguarda le ulteriori segnalazioni e comunicazioni o addirittura le richieste di atti di assenso alla parte relativa alla scia unica, alla scia condizionata della scia ovviamente. Abbiamo portato poi un esempio di scia. La scia è ovviamente un modulo più complesso, molto più corposo se analizzata sul formato cartaceo, come abbiamo detto, immaginato però su un formato più snello, nel quale riempire solo unicamente le parti, come ovvio che sia, e vedere anche ovviamente solo le parti, come ovvio che sia, di interesse. È divisa in tre parti anch'essa, quindi una parte in capo al titolare, che va a richiedere appunto, che va a presentare la segnalazione certificata di inizio di attività, ricordo che per la scia, per l'edilizia, sono tutti quegli interventi riconducibili, di cui l'articolo 19 della legge 241 del 1990 e sono brevemente la modulazione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione dell'edilizia. Faccio presente che con la scia sono altresì realizzabili le varianti a permesso di costruire che non incitono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria di inizia e che non si configurano come variazioni essenziali. Quindi una prima parte in capo al titolare, che è ovviamente di cui abbiamo fatto ampio stato dibattuto, tutte le parti che possono essere ricondotte ovviamente anche alla conoscenza che può avere il titolare della materia. Una seconda parte, molto più complessa, più strutturata, in capo al tecnico, quindi una parte di relazione asseverata da un tecnico. Ricordiamo che ci sarà una prima parte di scia, ma come per la scia di cui ho appena parlato, qualora si volessero allegare ulteriori segnalazioni, comunicazioni o addirittura richieste di atti di assenso, quindi in caso di vincoli di qualsiasi ordine e grado, sarà presentata un'unica scia, ci sarà un percorso guidato che indicherà tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto, questa parte ovviamente sarà sottoscritta da un tecnico, contestualmente alla scia, quindi nel caso in cui dovesse essere presentata altre segnalazioni, ovviamente si entrerà nella scia unica, quindi ci saranno altre segnalazioni o comunicazioni o, qualora ci fosse bisogno di atti di assenso, quindi entreremmo nella parte della scia condizionata. Al termine ci sarà un quadro riprogativo della documentazione, ovviamente questo quadro è stato immaginato ed è immaginato come garanzia ulteriore che indica l'eventuale documentazione da allegare, questa lista di controllo della documentazione in un supporto diverso rispetto a quello cartaceo potrebbe e dovrà essere generata in automatico dal sistema informativo e consentire semplicemente al responsabile di verificare la presenza di tutti gli allegati necessari. Ultimo esempio di modulo unico standardizzato, unico standardizzato appunto la scia per l'agibilità, ricordo infatti che con le modifiche apportate, mediante una scia, sono attestate la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici, degli impianti installati, valutate come e secondo le disposizioni vigenti, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato. La scia per l'agibilità deve essere presentata in maniera perentoria entro 15 giorni dall'ottimazione dei lavori, allo sportello unico come per tutti gli interventi e riguarda gli interventi, tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le sopreelevazioni totali o parziali e gli interventi e gli edifici esistenti come previsto per influire sulle condizioni di cui vi ho parlato prima, anche in capo nel caso in cui non fosse presentata, vi sono sanzioni previste da 77 a 464 Euro. Gli accordi, molto brevemente, sono stati grazie alla conferenza, allo Stato, alla funzione pubblica, alla conferenza delle regioni, a Lance, è stato monitorato l'attuazione dell'Italia moturistica, abbiamo visto che tutte le regioni hanno adottato la moturistica unificata, faccio presente che per l'edilizia le regioni del Stato Speciale hanno competenze giudizie esclusiva, do un breve flash sull'attuazione dei comuni in capo luogo di regione, quindi diciamo che è superiore al 97% per le attività produttive, quindi di attuazione di moduli adottati pubblicati sui siti istituzionali del 95% per l'edilizia, per il primo accordo, il secondo accordo superiamo il 92% per le attività produttive, l'84% per l'edilizia, il terzo e l'ultimo accordo dello scorso 22 febbraio 2018, diciamo che tutte le regioni hanno adeguato la moturistica alle specificità regionali, quindi nelle parti contrassegnate come variabili, per quanto riguardi i comuni in capo luogo di provincia, sono ancora in corso ovviamente l'elaborazione dei dati e magari in un futuro webinar vi comunicheremo la reale attuazione da parte dei comuni in capo luogo di provincia. Diamo la parola a Carlo e insieme a Carlo daremo adesso nell'ultima parte le risposte ai quesiti che stanno scorrendo e a cui ovviamente proviamo a dare seguito nel maggior numero possibile. Io cercherò, non ce la faccio a rispondere a tutti, ma poi vedremo successivamente ci si incontra, possiamo fare un incontro per rispondere esclusivamente ai quesiti, facciamo un'ora di quest'ora qui per rispondere esclusivamente ai quesiti di cui avete bisogno. Intanto iniziamo ad alcune cose, Lorenzo Ferraris ha detto che il commercio su area pubblica c'è qualche novità, sul commercio per area pubblica c'è la legge 145 del 2018, che è la cosiddetta legge di bilancio 2019, che ha praticamente tolto questo commercio su area pubblica nell'ambito del decreto legislativo 59 del 2010, cioè nella cosiddetta direttiva servizi. Per cui in questo caso, essendo fuori dalla direttiva servizi, perché è stata messa? Io ricordo fu messa, allora io ero consulente al Ministero dello Sviluppo Economico nell'ufficio legislativo, fu messa perché la direttiva servizi dice che lì quando ci sono dei beni che sono limitati, ad esempio il terreno del comune è limitato e il mercato si fa in determinate aree con terreno limitato, vanno fatti dei bandi. In realtà adesso questa legge che è stata pubblicata il 31 di dicembre ci cambia un po' le cose. Un'altra cosa che Lorenzo Forletta parla, molti di voi hanno parlato di modulistica, adesso cercherò di rispondere un po' a tutti quanti. Lorenzo Forletta ad esempio ha detto che nel caso che io abbia una piattaforma informatica è necessario utilizzare i moduli standardizzati, altri hanno detto che è necessario utilizzare i moduli standardizzati, quale ad esempio, che posso dire, Luigi Pier oppure Antonella Brizio e così via. I moduli standardizzati devono essere utilizzati perché noi li facciamo insieme alle regioni, oggi stesso ad esempio c'era, io sono venuto qui perché ero con voi, altrimenti dovevo essere in una videoconferenza con le regioni per trattare dei moduli di pubblico spettacolo. Quindi noi lo facciamo insieme alle regioni, insieme ai comuni che vogliono partecipare, ma lo facciamo sicuramente insieme a Lanci, lo facciamo sicuramente poi agli altri ministeri. Ci sono delle parti che noi mettiamo in questi moduli standardizzati, delle parti che sono obbligatorie perché a noi ci servono per monitoraggio, noi dobbiamo dire ad esempio che ne so quanti sono i comuni oppure come adottano il procedimento e via di questo passo, altre cose con degli asterischi d'accordo con le regioni, le regioni possono modificarlo in base alla normativa regionale e altre cose che riguardano i comuni e che sono state delegate e dallo Stato e dalle regioni possono toccare i comuni. Qui vengo a un'altra cosa che dice Antonella Brizio, dice il comune decide di applicare la scia al posto di un'autorizzazione e non può farlo, il comune non è che fa una legge, dice anziché dell'autorizzazione applico una scia. Il 222 è nato e quindi è implementabile e deve essere implementato e modificato o ampliato proprio perché per omogenizzare i regimi amministrativi su tutto il territorio nazionale, anche perché chi di voi gestisce lo sportello unico, ma indipendentemente dallo sportello unico, adesso è uscito un nuovo regolamento della comunità europea che ci obbliga a mettere uno sportello telematico e quindi entro il 2020 che raccorda tutti gli sportelli unici, tutte le altre direttive e cose, quale la direttiva servizi che è stata ricevita in Italia, il decreto legislativo 59 del 2010, quale che posso dire altre direttive e così via, era stata fatta in modo che i prestatori di servizi degli stati membri, il nostro ad esempio sportello unico per le attività produttive, se voi andate a leggere l'articolo 1 o l'articolo 2 in particolar modo, ci dice che qualunque imprenditore può partecipare, ma anche i prestatori di servizi individuati dalla direttiva servizi, quindi un imprenditore di Parigi può entrare nel sito del comune di Roma ad esempio e mettere qui a Roma un'attività, potrebbe fare un catering, potrebbe aprire un ristorante o qualunque altra cosa, quindi sono cose che la comunità europea ce lo impone e quindi se la legge sia nazionale che regionale dice che è un'autorizzazione, bisogna fare l'autorizzazione e non la scia. Sulla modulistica molti dicono che i progettisti utilizzano una modulistica diversa, ma i progettisti non possono utilizzare una modulistica diversa, voi siete obbligati a utilizzare, almeno la modulistica che è stata standardizzata ed omogenizzata, a utilizzare quella modulistica fatta propria dalle regioni e se il comune non ha messo niente si prende quella delle regioni, se le regioni non hanno toccato niente si prende quella statale, ma siete obbligati a utilizzare quella modulistica? Perché c'è stato, come diceva Filippo, un accordo, conferenza Stato-Regioni-Antilocali che è stata presa la cosa di utilizzare questa modulistica. Un'altra cosa, Vincenzo Carraro ci dice, e questa è una cosa che è uscita spesso in questi incontri che si fanno un po' in tutta Italia, nelle città metropolitane principalmente, nel caso in cui a chi è stata fatta la procura è venuto meno o è deceduto oppure io, diciamo imprenditore, lo tiro via perché non mi fa le cose buone, che faccio? Devo riniziare da capo? Molti sportelli unici, molti specialmente nell'edilizia, il suo, lo fanno iniziare da capo, non possono iniziare da capo perché questo ha speso dei soldi, ha fatto delle cose, basta che comunica che il nuovo procuratore è quella persona, l'importante è che ne sia una conoscenza, chi gestisce il procedimento che può essere lo sportello unico e quindi lo sportello unico li comunica a tutti quanti gli altri enti, per cui quello prende e lo sportello unico toglie quello nel gestire il procedimento al vecchio e metterà il nuovo. Un'altra cosa sulla scia condizionata, molti hanno detto la scia condizionata come va gestita? La scia condizionata è una scia per cui io ho bisogno di autorizzazioni e qui mi rifaccio pure a una domanda che ha fatto la dottoressa Giulia Angelelli quando ha detto sulla normativa CE posso utilizzare tempistiche diverse oppure vanno utilizzate tempistiche diverse. La normativa CE ha una normativa che abbiamo, che applichiamo, in genere i regolamenti CE se sono regolamenti che bisogna applicare, lì applichiamo e hanno una tempistica e quindi utilizziamo quella tempistica, altrimenti se l'abbiamo recepiti con decreti legislativi o con altre cose lì abbiamo messo le tempistiche e utilizziamo quelle tempistiche, non possiamo noi utilizzare tempistiche diverse, le leggi ce lo dicono, quindi è quella tempistica lì. Per la scia condizionata quando ci sono più autorizzazioni, quindi una o più autorizzazioni, la scia, questo era un problema se voi vi ricordate, che ce l'avevamo presente dal 1998, vi ricordate il DPR 447 del 1998? Nell'articolo 6 c'era il procedimento mediante autocertificazione, anche lì il procedimento mediante autocertificazione e noi tutto ciò che potevamo autocertificare, un po' come la scia adesso passava in quel procedimento, quello che non potevamo autocertificare come facevamo? Lì non si è risolto, qui si è risolto in questo modo, si è detto quello che non può essere autocertificato a quel punto va chiesta l'autorizzazione. Allora abbiamo due modi, noi vediamo sempre la normativa a cui sono legati questi procedimenti. Andiamo a vedere l'edilizia, l'edilizia c'è l'articolo 23 bis del DPR 380 del 2001, che è il testo unico dell'edilizia, che ci dice che io posso scegliere due modi, nel senso che chiedo al responsabile dello sportello unico per l'edilizia in questo caso di prendere tutte le autorizzazioni di cui io ho bisogno e poi presento la scia quando me lo comunica che ha preso tutte queste autorizzazioni. Posso fare in un altro modo, lì c'è scritto, ci sono due possibilità, io chiedo al responsabile dello sportello unico di prendermi queste autorizzazioni e contemporaneamente presento la scia. Questo invece è quello che stanno facendo nel caso della scia non edilizia. In qualunque scia, esempio commercio e così via, eccetera, a questo punto io presento la richiesta di autorizzazioni e la scia contemporaneamente. Naturalmente se non ho l'autorizzazione non posso fare la scia. Come lo individuo questo procedimento? La maggior parte delle amministrazioni hanno individuato questo procedimento tutto inglobato nell'articolo 7 del TPR 160 del 2010. Quindi scia condizionata è il procedimento dell'articolo 7 del TPR 380 del 2010. Io non lo so adesso se c'è qualche altra domanda giusto per dire così, vediamo un attimo, certo la stiamo dando così a flash, poi se facciamo un incontro adesso facciamo con Anci.